a tutti io sono viviana oggi vi presentiamo questa bellissima collaborazione con chica boom apri gabriele sono arrivati cosa sono gli city club sono degli animaletti gommosi super attaccosi della chica boom allora gabriele mostra il contenuto dei pacchetti c'è pure un libricino anzi non è un libricino scusate è un apilo è un super poster che mostra tutti gli animaletti e addirittura c'è pure un concorso anzi no all'interno c'è un coupon per un ingresso maggio mirabilandia e allora gabriele cosa abbiamo qual è il primo non fa odore di niente non fa odore ma è bellino che cos'è è un come fa appiccicarsi un ragnetto perché sono gli stichi appiccicosi stichi club si chiamano e li devi lasciare nel cartoncino perché così non si staccano dai poi questo è di petto ecco qui stichi club ci sono pure quelli che cambiano colore che si illuminano al buio che bella bellissima froggy qua ci sono tutti quelli che si possono trovare il primo questo qui è questo sky poi ora abbiamo trovato froggy una rana io l'ho detto si si poi molto appiccicose certo il gioco il bello di questi stichi club e queste sono super appiccicose li puoi lanciare si attaccano poi si staccano e continui il gioco dai gabrie apri gli altri apri gli altri speriamo di trovare quelli che si illuminano al buio cos'è 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 dai dai che sono curiosa non riesce ecco il piccolo abbiamo stiamo riuscendo no abbiamo trovato quello che si illumina a buio bubble bello bellissimo adesso nel video vi faremo vedere come si si illumina intanto continuiamo ad aprire gli altri anche se il bubble è un pochettino schiacciato però che bello quello che si illumina al buio ogni volta siamo fortunati gabrie si si per alcune cose dai continuo ad aprire vediamo vediamo oh un super no allora scusami se lui è terry anzi lei è terry è la cucina e il primo chi era allora? ah una formichina scusate una formichina ma io qua non... eccola qui il red scusate non avevo visto che c'erano pure questi il red ma questa è la cucinella no questo è il ragno questo è la parte posteriore del ragno e quello è soltanto il cartoncino ma ce ne sono un milione dai andiamo avanti vediamo vediamo quale sarà il prossimo a me piace questo non vedo l'ora di farlo illuminare al buio e vedere l'effetto finale eh eh però ma questo è ci riesci? no al contrario lo apro ah ecco Gabriele li apre al contrario perché così ci riesce dai vediamo vediamo quale riusciamo ad aprire adesso dai forza Gabri forza dai apri questo oh no ne abbiamo trovato un altro che si illumina al buio il pipistrello butt guardate che carino mi Gabriele sei fortunatissimo ora ne hai due che si illuminano al buio guardate butt e bubble vediamo questo è quel mio colore no chela che si illumina al buio pure bravo Gabriele hai trovato tutti quelli speciali e siamo a tre uno due tre e questi sono i classici che belli no non ci credo ha trovato pure il quarto ha trovato pure come si chiama? sneaker niente Gabriele hai completato la collecciae di quelli che si illumina dal buio siamo stati fortunatissimi ah c'è l'ultimo ah ah un altro ragno Sky questa volta è vero Sky quindi quella era Terry Terry e Sky sono loro due e poi e poi ce n'è ancora? si ce n'è un altro l'ultimo City Club speriamo che ne trovi uno che cambia colore almeno no un ultimo ragno Seven quello giallo quindi è tutta la collezione dei ragni e tutta la collezione di quelli che si illuminano al buio eccoli qua perchè perchè noi non ho e forse alcuni si cambiano colore eh si sono questi qui ma noi non li abbiamo trovati allora Gabriele come ti piacciono questi Sticky Club? si sono belli? ci giocherai tanto? si ok noi allora adesso poi faremo aggiungeremo a questo video una piccola cosa dove vi faremo vedere come si illuminano questi dai saluto a tutti ciao ciao